Un'interpellanza al presidente della regione Luciano D'Alfonso e all'assessore alla sanità Silvio Paolucci per sapere la situazione del distretto sanitario di base di Cepagatti. Esiste una struttura affatiscente, in parte inagibile, che crea grandi difficoltà agli utenti. A poca distanza, anni fa, otto anni fa, è stata realizzata una nuova struttura, che però anche quella versa in uno stato di abbandono. Della vicenda se ne è occupato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Consigliare Sanità, Domenico Pettinari. Sì, stiamo parlando, senza ombra di dubbio, di un presunto danno erariale. La struttura che ospita il distretto sanitario di base di Cepagatti è completamente fatiscente. Strutture interne ammalorate, laboratori e ambulatori accorpati in un'unica stanza, addirittura mangano tutte le certificazioni di idoneità, e quindi è non idoneo, e mancano le certificazioni di agibilità. Ecco, ogni giorno si riversano centinaia e centinaia di utenti all'interno di questa struttura, subendo tutti i disservizi che si possono appunto immaginare. Ebbene, noi ci siamo attivati per chiedere un intervento immediato dell'amministrazione regionale, perché sembrerebbe che otto anni fa sia stata costruita una struttura attigua, a soli 300 metri, una struttura che all'epoca era nuovissima e stava in ottime condizioni, la si è lasciata marcire, non si è mai trasferito le strutture dalla vecchia alla nuova abitazione, struttura, e quindi abbiamo lasciato appunto marcire questa struttura che è quasi cadente. Oggi la stranezza qual è? È che addirittura si sta pensando di fare una gara per ripristinare la conformità della nuova struttura. Allora noi diciamo, abbiamo speso soldi per la nuova struttura, non abbiamo trasferito i laboratori dalla vecchia alla nuova struttura, e addirittura adesso dobbiamo impegnare altre somme, altri soldi della collettività per ripristinare la conformità di quella struttura che è lasciata cadente. Tutto questo va senza ombra di dubbio a configurare un danno erariale. Noi riteniamo che si debba procedere immediatamente con il trasferimento per garantire un servizio pubblico secondo gli standard di qualità e di efficienza. E poi individuare i responsabili, perché non possiamo lasciare sempre che paghi la collettività. Se ci sono responsabili, i responsabili devono pagare. Che siano essi amministratori pubblici, funzionari o dirigenti, noi vogliamo che si appunto emergano le responsabilità di TIA causato questo che può essere annoverato tra un danno erariale gravissimo.